allora signori bentornati o benvenuti sul canale guardate chi vi ho riportato sul canale la mummia la mummia è tornata dopo mesi dove era sparito e oggi siamo qui per fare un video speciale particolare diverso dal solito allora questo video è un po il sequel di un video che feci tempo fa sul canale parliamo nella pausa di settembre quindi parliamo di mesi o sono tra parentesi quel video che ho fatto è uscito proprio l'undici settembre una data a caso e quel video io andai a scegliere il miglior giocatore del napoli dell'era dell'aurendis ok era un torneo eliminazione diretta due scelte devi sceglierne uno e così fino alla fine visto che tu comunque sei un tifoso del napoli vogliamo ricordarla che hanno più o meno ecco quindi parliamo di mezzo secolo più di mezzo secolo sfruttiamo questa tua conoscenza ultra decennale per andare a votare il miglior giocatore del napoli della storia però però tolto maradona troppo facile facciamo una specie facciamo tipo la top 3 maradona fuori fuori categoria andiamo a vedere gli altri due così poi diciamo i due che arriveranno in finale saranno per te i due migliori giocatori della storia del napoli e sarà bello perché sarà il computer a decidere gli abbinamenti quindi potrebbe arrivare al finale uno che magari non è arrivano al quit arrivano al quit in finale sempre divertente ecco quindi ecco andiamo quindi a votare quelli che per te sono i tre migliori giocatori della storia del napoli e poi beh in finale decidi tu chi è il secondo e poi il terzo il primo sappiamo già chi è quindi detto questo vuoi ricordare qualcosa ai nostri amici iscrizione a iscrivervi al canale mi raccomando bravo iscrivetevi al canale in acqua attivate buona campanella ha detto questo cominciamo e partiamo subito sì sì ci siamo sempre così qua partiamo subito con un abbinamento questi sono i trenta due similiosi man contro marquette direi marquette tutta la vita no ok andiamo su sì ma questo è sito si chiama ufu fu per chi sono stessi chiedendo questo giocatore italiani hanno capito passato e presento passato e presentato da quanto e non lo so però ci sono anche quelli prima di dell'orentis ma no non vedo però è passato e presente un po tra i sai o fabian abbiamo l'ultimo che tirava da fuori aria ecco abbiamo già maximovic o ciro ferrara tra l'altro c'è in questa foto e lui questa è la foto di quando torno a napoli qualche qualche decennio fa simili si mi pare che quello poi all'anno olo botca questa è una bella bravo tu sei nella scuola no bot che ha bravo giorginio ottonelli non ricordi attonelli quello che seguiamo sempre sul calcio d'angolo chi sceglie di oggi ok poi abbiamo zilischi o carlos vinicius ha fatto zero presente se non sbaglio questo questo è uno di quei classici giocatori che napoli piglia di manda in prestito fanno l'assaggio della vita e non ripetendo nonostante nonostante questo passata non ti dimentica zerbino paolo cannavaro paolo cannavaro manco bisogna spiegare abbiamo anghissà o crol e non lo scegliamo lui sì sì bene va bene poi tratto la maglia snaider o come sponsor lozano culibali e quasi mi sbagli ti 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 mando via non puoi non puoi non scegliere bravo bravo calido caglie horn o federico fernandez caglie on quella fascia destra non trovo più un padrone dopo il suo dio o spina o gabbiadini o spino spino il mitico spina poi abbiamo clara o sirigu questi abbinamenti proprio in brovoli a diavara contro juan jesus diavara che fece ti ricordi il rigore al real madrid al bernabéu in champions l'ottavo di finale allora abbiamo ancora a diavara paolo il collo contro il chievo a favore di avara si ricorda solo per quello con l'alchievo quindi chi sceglie vada io adesso avete scegliere di avara perché poi con l'alchievo rimane rimane storico restare in signa o meret a questo non mi piace a questo proprio da un momento se già in difficoltà lo scugnizzo capitane i capitani non si scordano lo scugnizzo in signa vai poi tu anzebe o maggio tu anzebe quella quella presenza con la fiorentina in coppa italia con spalletti e poi non è più uscito non è più scomparso anche maggio è quella partita col crotone ancora grida vendetta di lorenzo racmani questo è un po più equilibrato però carina di capitano capitano a la vezzi contro gli orente te lo riguardi io rende che fece le golle al liverpool è uno dei miei primi amori anche padone mario lui al viola amare romani lui o professore essenzial maestro scusate ma i grossi di quelli dell'anno scorso mi piace qui anzi cochi ma è stata un paragone però è stato un anno però c'è fatto vincere su e lo so però non puoi togliere ansi che c'è non lo puoi togliere anzi con il chimo con tutto il bene ti è andata male ignazio abbate abbate il terzino del milan ha giocato nella laurea e parte un nuovo voleto o calaio la cera calaio ok e vabbè allora qua come abbiamo detto prima non lo mettiamo maradona quindi scegliamo rastratori qui perché maradona lo sappiamo è più che altro per vedere tolto lui chi metteresti simeone all'instrom l'instrom ti farà vedere grandi cose guagliarello contro l'altro è caduto lasciarci di condividere giustamente guagliarella poteva diventare una bandina del napoli quindi poi c'è guagliarello tra l'altro vada voglielo bene abbiamo blank blanco non c'è storia anche lui voglielo l'altro campione mondiale dm o iller iller stava con con mazzari vipo mazzari obbenite il suo tridente svizzero in l'erza e libera mia equilibrato e comunque deve messa e mi ha sempre dato quando aveva ultimamente no il resto pure è stato parecchi anni ha fatto parecchi con da da fuori da fuori no il gocan tra l'altro il ti ricordi quello che fu presentato sulla nave con la con la maschera del leone da ricordo che le le cose ingegnose di direttore di smili con manolas quindi non ha dato quello che aveva dato poco perché seppur infortunato prima di infortunarsi era pure ha fatto bene cavani o politano gli spiagli per politano davani non si dimentica cavani non si può battere gli spiagli anche se non ha vinto il campionato a questo è il tuo preferito bagaio magaio con reina il mitico bagaio con fabbio cannavaro fabbio o gulam un altro lavoro operati questa maglia con mio con voi e l'era da roba bellissima stava i guaino dombe letto il volete prendendo il traditore un traditore zapata o panda che già vado a capri poi ha fatto poco era ancora cerco diciamo palle fuori ci ha regalato e a pander era più forte ultimo trentaduesimo mertens o elmas il capo cannoniere il primo capo cannoniere due all time ok abbiamo finito i trentaduesimi adesso siamo i sedicesimi o simen contro blanca adesso diventeranno piuttosto siamo di fronte un centro avanti contro un difensore poi ci ha regalato lo scudetto di rosimerta vabbè quelli che hanno vinto lo scudetto ci sono più avanti o spina o zelischi e rischi è tutto c'è un tempo le benze rischi a essi fabbiano raspadori stai molto attento qui è sempre la squadra la vizio cala io a calai non mi ricordo l'ha fatta la serie a con il napoli fosse il primo anno in la vizzi pandevo o paolo cannavalo più di pander questo è paolo e non è fabio ok facciamo noi o solo dimenticare facciamo la significativa ti immagini escono i due fratelli contro anzi cocaillon fabbio cannavaro lo bocca che fabbio cannavaro pure è stato poco pratica e la bocca anche se metti di pure presente robot casa qui da tempo cannavaro c'è stato poco giorginio simeone io di giorginio con con sarri era il giorginio alla nansic il centrocampo centrocampo delle meraviglie giorginio giorginio essi molto stretto cavanio diavara manco 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 spiega i miei i miei due quelli chiamo di più contro vai vai a vedere che fa ci hanno dato lo scudetto a mesi con è però pure il nero quel napoli lippure l'aveva vinto diciamo anche se poi è andata comandata pensata più è stato più di come il collo contro agli nero quindi cavana cavana che fra qualche anno lo potremo a real madrid per arrivare a ferrara a crolla è qui non crollerà buono non prenderà buonanente bravo di rolanda landese sicuro anche se ferrara ci ha fatto gol della finale di coppa web e ve l'hai scelto 2 è la sua però di quelli che è passato ce ne sono poco spesso e ma forza da mario lui o milic mario mario arriverà in finale insinio quagliarella questo è bello allora con le danni ero il capitale sembrano più forte insinia si pepe rena o il il noi diamo fiducia il di lorenzo maggio scontro tra due terzi di destra di lorenzo ultimo sedicesimo ecco questa è la finale se devi scegliere questa era una semifinale come minimo è uscita e subito e guai non mettersi di sedi e reti e mettere mettersi e il capogannoniere tutti e poi diciamo che mertens non ha fatto quello che ha fatto i guai diciamo c'è anche quello un conto e valla chissà se c'entra pure il presidente mi mette il 7 ok adesso andiamo agli ottavi così ma il giorginio non c'è sempre si vede così ma è qua che scegli cavalli o la vizzi tra l'altro è più bravo c'hanno anche avare segnato la vizzi ma hanno giocato anche insieme appunto è matador per la partita contro di nipro ma lui o insigne ecco qua ma devi rinunciare e allora andiamo sempre per il capitale insigne ci dispiace professore lo botca o raspadori lo botca tratto questa se non sbaglio è l'immagine di quando segnò l'anno scorso col verona alla prima giornata dirischi o paolo cannavaro ti dici che stai portando i quarti di finale è la statistica questo ti ha portato l'ottico cavallo perché sarà anziché stato dieci anni anzi per i dieci anni essi di lorenzo il ultimo ottavo mertenzio crollo ok adesso siamo i quarti anzich cavalli anzi anzi premia premi la sua fedeltà in signa lo botca insigne qua stiamo andando spediti messi mertenzio di lorenzo è davvero difficile capocannone dell'apoli mertenz ultimo quarto osimeno zelinski così ma da sì sono certo esce uscirà osimeno mertenz semifinali stai attento adesso i due che vincono sono quelli della top 3 quindi dopo maradona adesso ci sono i due che tu pensi sia di migliori così meno in signa così bene anche se stava poco e da poco non ho è solo questo è il quarto anno ingegna più di di 7 8 anni c'è stato però per consiglio quello che lui non era una musica ma era sin e segnava vabbè ma i quali da 4 anni sconosciuti ma sono due ruoli diversi così ma quindi osimeno è il primo finalista e va nella top 3 e l'altro è anzi con mertenz merda è già deciso lasci fuori il capitano per eccellenza e mertenz ok quindi per papà la top 3 e maradona poi chi ci metti come secondo miglior giocatore della storia del napoli osimeno mertenz a secondo secondo dopo maradona chi mette mertenz quindi signori per papà mertenz è il secondo miglior giocatore del napoli che hai visto finora perché poi vabbè il futuro di quelli che hanno fatto vedere vabbè si è vabbè quello si dovrebbe fare non si possono mettere tutti va bene quindi signori abbiamo scoperto la top 3 di papà ci troviamo col secondo ti trovi con gli altri terzo e cavani perché vabbè poi gli abbinamenti cambiano quindi questo è quanto sei soddisfatto di questa di questo tabellone che hai creato abbastanza ok quindi ragazzi infatti ci stavano dei dubbi molto esili e vabbè poi la devi scegliere tipo la cosa era amsic no che era i wine mertz i wine mertz eh quello proprio era una finale comunque però si deve premiare che ha fatto di più e anche chi è stato più fedele quindi detto questo ragazzi fateci sapere nei commenti se siete d'accordo con le scelte di papà io ti ringrazio per aver partecipato mia quando cosa devono fare i nostri amici ad iscriversi iscrivetevi attivata la campanella e lasciate il mi piace sempre metti il pollicione in su anche tu vai è bravo tu metti due così valgono il doppio detto questo arrivederci noi ci vediamo alla prossima buon proseguimento buona Pasqua buona Pasqua ci anticipiamo e forza Napoli sempre ci prossimo va